Che l'astensionismo è il partito a maggioranza relativa, ma forse a maggioranza assoluta. E mi rivolgo proprio a queste persone. Il non andare a votare è un gesto, senz'altro di protesta, legittimo e anche facile. Ma il giorno dopo, purtroppo, se non va a votare per cambiare il cittadino normale, ci va solo quello obbligato, comprato o venduto. Con il risultato che al governo ci saranno proprio quelli per cui non ce la fate più.